Bene, signor Pubblico Ministero. Grazie. Sentirei... Possiamo continuare? Sì, sì, senz'altro. Qualche difficoltà perché un test partito non è arrivato, uno ha mandato un certificato, però c'è il test Faggi Giovanni. Faggi Giovanni. Signor Faggi, si accomodi, prego. Più attento. Prego, si accomodi, si sieda pure lì. Grazie. Parli nel microfono, per cortesia. Vuole darci le sue generalità? Dove è nato, quando? Dunque, Faggi Giovanni, nato a Calenzano, il 17-8-1920. Dove risiede? A Calenzano. Benissimo. Vuole leggere quella formula? Consapevole della responsabilità morale e giuridica, che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non a nascondere nulla in quanto a mia conoscenza. Benissimo. Vuole rispondere per cortesia alle domande del signor Pubblico Ministero? Ci è, diamine. Prego. Signor Faggi, che lavoro fa lei? Rappresentante di commercio. Pavimenti e rivestimenti. Pavimenti? Pavimenti e rivestimenti. E dove ha questa sua attività? L'attività la svolgo in tutta la Toscana, le fabbriche sono su nel Modenese, Sassuolo a Modena. Di cui lei è rappresentante. E lei dove ha la sede della sua attività? A Calenzano la stessa sede, in casa mia. In casa sua. Quindi a Calenzano in via, ci ha detto? In via del lago 11A. Senta, signor Faggi, lei conosce il signor Pacciani? Dunque, io ho conosciuto per caso in un ristorante a Scarperia a Pacciani, in quanto eravamo a pescare nella sieve, si va a pranzo e per caso mi trovo di tavolino a fianco a lui e poi c'erano altre persone, non so chi siano. Lei era solo? Io ero con un amico mio, con i suoi bambini, che eravamo a pescare. E il signor Pacciani ha detto che era con qualche altra persona? Ma era insieme a altri, però non mi è dato saperlo. Altri nel senso uno, due, dieci, cento persone? No, dieci, non so se erano due o tre, a un tavolino si può capire. Erano persone grosso modo della sua età o erano familiari, uomini e donne? Erano uomini o donne? Erano uomini, erano uno o due, non me lo riuscite. Uno o due uomini, era un ristorante a Scarperia. A Scarperia. Ricorda che il ristorante era? Oh! No, no, per carità. Ricorda o può ricostruire la data? Ma senta, a me mi sembra verso il 1980. Quindi, 1980, Scarperia, Pacciani con uno o due persone. Bene, la data. Ecco, come mai faceste conoscenza? Non sempre al ristorante si fa conoscenza, c'è un motivo. Spiego subito. Grazie. Lei capisce bene, essendo di tavolino a un ristorante, capita dopo un periodo, una mezz'oretta o così, di scambiare alcune parole. Certo. No? E Pacciani mi chiese che mestiere facevo. Quindi fu Pacciani che la attaccò il discorso? Io ora non mi ricordo se fu Pacciani, con esattezza. Bene. Le chiese che mestiere facevo? Sì, mi sarebbe facevo, facevo rappresentante di pavimenti e rivestimenti. Allora lui mi rispose, dice, c'è un amico, probabilmente gli interessa questo materiale. Dio, ma me lo può dare o mi ricordo se mi gli era detto. Questo materiale quale? Pavimenti e rivestimenti che rappresentavo io. In genere o qualcosa di concreto? Cioè le disse, Pacciani disse, a un mio amico sta facendo la casa, gli servono. No, in genere o fino ora, esattamente, non me lo ricordo. Quindi lei? Lei cosa le disse? Io le disse, ma se è possibile, si guarderà un po', senti un po', quanta roba lì ci vuole e poi ci vedrà un po' cosa fare. Quindi lei vide in questo pranzo una sorta di possibilità di sviluppo di un affare? No, sviluppo di un affare relativamente. Un affare, sì. Relativo. Quindi gli lasciò il suo numero, il suo indirizzo? Sì, gli diede in noi il numero mio, il biglietto tra visita mio, che sceglievo sempre con me, e mi diede e poi mi iscrisse l'indirizzo suo, io non me lo ricordo, attraverso le decine di anni le ose porrono sa com'è, e il discorso è questo. E poi, dopo un certo periodo, gli spiego, gli determino con esattezza le cose, con tutta la tranquillità possibile. Meno male, meno male, ne abbiamo bisogno. Io, che si passò, un mese, un mese e mezzo, così, roba di questo genere, gli dissi, ma questo tuo amico... Gli disse in che modo, scusi? In che modo gli disse? Gli mandai una lettera. Ah, gli scrisse? Sì, gli mandai una lettera, avevo l'indirizzo. Quindi aveva ragione, io era un affare, lei ci aveva visto un affare, se gli scrive... Un affare relativo, casavole, c'è un amico, ricevo della roba... Lei addirittura gli scrisse? Era un affare molto... No, 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 era una cosa da accontentare, guarda se è possibile... Su per giù che valore le prospettavano? Ma si può sapere, era un pavimento, due pavimenti, non lo so, in una casa... Cioè, scusi, che valore può avere un pavimento? Ma un pavimento, bisogna vedere, a questa impirà nell'80, poteva valere 10.000 lire di metro quadro... Quindi un pavimento di una... che dice lei, che valore... Sua mente, che valore aveva quest'affare? Ma, guardi... Su per giù, così come se lo prospettò lei... Ma io, non è la gestione che io volessi dare per fare un interesse veramente licese, se era possibile... Al ristorante? Sì, al ristorante. Che valore lei si prospettò? Ma il valore... Da quel che capì... Il pavimento, non lo so... Il valore non è stia di chiesto, il valore... Qualche milione, qualche... No, sì, si immagina, questo è in pila... Qualche centinaio di migliaia di lire... Potrebbe essere 200.000 lire, 300.000 lire, roba di questo genere... Su queste due 300.000 lire era il suo guadagno o il costo del pavimento? No, era l'importo del pavimento. Il 5.000 lire sono 15.000 lire? Sì, quindi non era il valore per il... Allora lei dice gli scrissi? Scrisse una lettera se lo voleva o se non voleva questo materiale e non ebbe risposta... Questo suo appare di 15.000 lire lei gli scrive? E non ebbe risposta... Non gli risposta... Allora cosa successe? Poi cosa successe? Successe che avevo l'indirizzo dove stavo un giorno venendo da Siena... Da Siena dico... Proviamo a vedere dove sta questa persona... E passai per quella strada lì che non c'è poca abitazione e che non ci passo mai... Lei la conosceva questa strada o la... Non la conoscevo, fu la prima volta e ci passavo... Era facile o l'ebbe difficoltà a trovare? No, non sa se ci rimondo, non è che la gestione lo chiesi e mi indirizzarono e passai... Dov'era questa località? Ma io non lo so, era a San Casciano, la zona liquida, quella zona dove abitava lui... La frazione non me lo ricordo con esattizia... E tant'è vero, aspettai l'ora che generalmente tornavano a casa di operai agricoli... E si mise a aspettare o entrò in casa? Aspettai in strada... Ma come capì qual era la sua casa? Perché me l'avevano detto, dove più avanti trovai delle abitazioni e gli chiesi dove stava... Come si può fare in tutte le cose, questo signore, no? E mi disse, guarda, così e così... E mi misi lì, dopo un quarto d'ora, venti minuti, sulle cinque, cinque e mezzo, così... E arrivò... Ma lei, scusi, per sapere se era in casa, prima suonò... Niente in casa e non c'erano stato... No, mi scusi, prima di mettersi a aspettare, non provò se era già tornato? No, perché io... E come mai non provò a suonare? Niente, perché la casa era distante dalla strada... Allora lei andò a casa a vedere, vide che non c'era... No, io non ci andai in casa... Non ci andò nemmeno in casa... Pure per i miei mesi sulla strada... Dopo un quarto d'ora, venti minuti... Scusi, ma poteva essere in casa, come mai non andò a suonare? No, perché era fuori a lavorare... Ma lei faceva a sapere che era fuori a lavorare? Che smettevano alle cinque, alle cinque e mezzo... Da chi lo sapeva? Io lo chiesi più avanti a questa casa... Le dissero che non c'era... Dice, non c'era, a lavorare vedrà che toccherà aspettare... Voleci sulla strada... Ah, aspettare, lei era solo? Io ero solo... In macchina solo... In macchina aspettai... Poi arrivò... Arrivò lui? Dopo un po' di tempo, arrivò... E lo vedi anche messo un po' male, in brutte condizioni... Aveva lavorato? Sì, e poi anche altre... Vedi che non è il caso di intraprendere una relazione di commercio del suo genere... E c'avevo con me in macchina... Scusi, come mai capì che non è il caso di intraprendere questa relazione di commercio? Cosa aveva? Da determinate condizioni della persona... Me le vuole spiegare per cortesia? Sì, da come era? Era sporco, era messo male dal lavoro... Era stato a lavorare, no? E c'è... Ma sta... Ma a lei dette la sensazione che non era proprio un grande affare... Mi resi conto che non era possibile anche dal punto di vista così come si presentava la persona, ecco... E allora io in macchina ci davano allora a quei tempi, le ceramiche, qualche cosa da dare alla clientela... O librettini da scrivere, delle penne... Io avevo, mi ricordo, tre tute da dare ai magazzinieri, alle ditte... Allora gli disse, va, tienne una, va, prendine una... Lui mi ringraziò... Poi io salutai e gli dissi, ma questo tuo amico dice, ma non ho saputo nulla... Io poi salutai e non ho saputo più niente... Poi ho saputo tutte le vicende dopo che è capitato e tutti si sa... Quindi il tutto della sua conoscenza, non pacciani, è tutto qua? È tutto qua. Quindi se non ho capito male, lei per un affare di una quindicina e mila lire lo va a cercare, lo aspetta, lo vede malmesso... No, lo feci perché me lo chiese, per favore, sapeva che sta mio, lo feci così a titolo, come si può fare in tante altre occasioni, tante persone, di accontentare... Però lei lo andò a trovare, gli scrisse e lui non le rispose, allora lei lo andò a trovare... Passai per caso... Sì, certo, certo, era lì sulla strada. Tutto qui, niente di più. Senta, però è vero che lei scrisse a Pacciani una cartolina in data 10379 e lo chiamò caro Pietro? Sì, così ha visto... L'aveva visto una volta e lei lo chiamava caro Pietro. Come si può fare, siccome mi diede delle confidenze sul suo ristorante, ecco... Che confidenze erano? Quelle che ci ha detto? Confidenze di linguaggio così aperto. E lei lo chiamò caro Pietro come... Non è che lo aveva... Ebbe modo di conoscerlo in modo diverso. Ho capito. Tutto qui, niente di più. Io non so altro. Saputo poi tutte le vicende del capitale dopo. Quali vicende? Queste vicche è il successo di tutti questi guai, sono. Ah, quelle del... Dalla stampa e... Senta una cosa. Noi abbiamo sentito in questo processo due persone che dicono invece che lei andava con Pacciani a bere alla cantinetta. Vi hanno visto più volte. Io? L'ha detto stamani, signore. No. No e poi no. Mai, prima di tutto, non bevo. Prima di tutto, non bevo. Mai io... Allora, un signore che ha detto di averlo... Io senza, non c'ho... Tanto è vero, io nella zona di San Cacciano non ho mai avuto un cliente. Quindi... Niente. Una persona che è amica di Pacciani e che dice di avervi visto insieme a San Cacciano? Assolutamente no. Assolutamente no. Assolutamente no. Ma che è una cosa che le dà tanto noia. No, perché siccome quando una cosa non è vera, non deve essere... Sembra... È una città... È una città così banale. Tra l'altro andare a bere qualcosa... No, no, no. Mi scusi, lei è stato al ristorante con Pacciani. Mi capisò per caso di gommi sul tavolino. Ma mi capisce, se questa persona è un amico di Pacciani... Senta il pubblico ministero. Mi perdono. Sì, sì. Questa persona è un amico di Pacciani. Un conoscente, amico. Dice, guarda, fra le persone che venivano a San Cacciano a trovare i Pacciani, e qualche volta hanno bevuto insieme alla cantinetta, c'era anche lei? No. Questa persona sbaglia. No. No. Senta una cosa, signor Faggi, mi perdoni, ma io le devo fare qualche tipo di domanda che avrei preferito evitare, perché insomma tanto è marginale, però a questo punto le faccio. Lei ebbe... fu oggetto di una perquisizione. Sì. Durante questa perquisizione venne rinvenuto diverso materiale, un po' anomalo, in casa sua, nel suo garage, che è materiale identico a quello che avevano sia il Pacciani che il Vanni, vuole descrivere... Io li... Lo abbiamo trovato noi, lei glielo dico io ora. Io non c'ho nulla a che vedere. No, 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 per carità, io le dico, ricorda che materiale è o vuole che io le legga il processo verbale di perquisizione? No, no, ma lo ricordo. Che materiale è? Come lo ricordo? Erano penni. Erano? Penni. Falli di gomma? Sì. No, di legno. Ah, di legno. Sì. Che me lo diede una donna al tuo arrivato. Scusi, nel verbale di perquisizione, poi sentiremo coloro che l'hanno fatto, si dà atto che sono numerosi, ce ne sono alcuni di gomma e alcuni di legno. Lo so che è un argomento, è sbagliato il verbale. Ci sono, qui si descrive parecchie riviste pornografiche. Così si fintano delle cose. No, 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 ma io voglio vedere di capire se per caso, conoscendo per l'appunto questo Pacciani, che anche lui a volte ha avuto oggetti di questo genere, e quel test che abbiamo sentito stamani e che ci ha detto che vi frequentavate per l'appunto a San Casciano, anche lui ha questo materiale, tante volte per una ragione qualsiasi. No. Ma c'era questo materiale in casa sua? Sì, ce l'ho detto. E poi l'ha bruciato. L'ha bruciato dopo la perquisizione? Sì, bruciato tutto, tutto. Non è che, avuto a caso con il Pacciani, sia pure ovviamente, non ha nessun valore, ha nessun fine, avete parlato di cose di questo genere? Perché ad esempio il Vanni dice che gliel'aveva comprato lui al Pacciani dei fatti di Goh. No. No. Assolutamente. Senta un'altra cosa, signor. Io quando salutai e l'idea di Rasusa, io non ho visto. Due volte. A me sembra strano, ma sono cose mie che lei per 15.000 lire ci va a trovare. Cazzo, questo è un altro paio di mani, sono valutazioni. Io voglio che lei capisca le mie perplessità, niente di più. Lei ci dice la verità, è un test. Quando ce l'ha detta è tranquillo, lei, il resto tocca a noi. Proseguiamo. Senta una cosa, lei dove abita esattamente come strada? Ha detto via? Via del Lago 11A. A Calenza. A Calenza. Pacciani, per caso, è mai venuta a trovarla? Mai e poi mai. Il Vanni, questo signore, altre persone. Mai visti, mai visti queste persone, mai avuto un atto. Senta, lei ha mai sentito parlare, sicuramente sì, ma io glielo chiedo, di un omicidio debitato al cosiddetto Mostre Firenze avvenuto a Calenzano? Sulla stampa? Io l'ho visto, venisse come in altri posti. Ecco, ha mai cercato di approfondire quello di Calenzano dove era avvenuto? Ma avevano detto alla Marina, ma io poi, siccome fu via tutti i giorni, la mattina, il torno della sera e qualche volta sono stato anche in Niguria a settimane... Sì, sì, ma guardi, se lei fa questo tipo di distinzione, va più lontano di dove voglio arrivare io. Io chiedo solo se sa dov'è esattamente il luogo dove è avvenuto questo... Io il punto non lo so. Non lo sa. Sa se vicino a casa sua o se a Calenzano c'è un posto che si chiama Le Bartoline? C'è una frazione. Sa che questo omicidio è avvenuto in una frazione di questo genere? Sì, lo so pure con la stampa. Questa frazione Le Bartoline è nei pressi di Calenzano delle strade dove abita lei o è tutto da un'altra parte? È più distante da me. È più distante. lei sa che una misurazione fatta fra casa sua e dove è avvenuto l'omicidio ci dice che sono di autovettura, in macchina, non a piedi, passando per i campi 900 metri o lo sa per la prima volta da me stamani? Per me sono di più di 900 metri. Allora lo sa. Per me grossomodo anche a linea d'aria. Sì. Capito? Sapendo è... Allora lei sa, mi scusi, se dice che sono di più, sa dov'è. Invece lei mi ha detto non sa dov'è. Ma Le Bartoline sono una frazione di Calenzano. Io le dico, lo sa che il punto dove sono ritrovati, stati ritrovati i cadaveri... Il punto non lo so. Non, ecco, non lo sa. Ho visto poi c'è delle insegne, ci hanno visto delle croci e i via di Silvio andando fuori a fare delle girate. Il fatto che lei dice sono di più non è relativo a quel posto lì. Non lo so, perché sai, io non sempre non ci sto lì e... No, mi scusi. Sì, comunque, ora è... Ha mai sentito dire da nessuno a Calenzano guarda l'omicidio del... Relativo a una coppia uccisa dal cosiddetto mostro e è avvenuto lì o in questo punto. C'è un ponticello, lei poi ha già descritto che non c'è più quel ponticello, è già stato interrogato. Quindi la zona la conosce. Via, signor Faradio. Io la conosco, era Vanderson, aveva una zia e tutto, lo so che la zona... Eh, allora quando io le dico è 900 metri, quel punto, lei dice non sarà 900 metri. Ma io penserei, siccome saranno mille, via, signor Faradio. Saranno mille, via, signor Faradio. Saranno mille, via, signor Faradio. È vicino a casa sua. Bene, lei dice il Pacciani, io l'ho conosciuto solo in questo modo e non è mai venuto a casa mia. Senta una cosa, lei conosce una signora che si chiama Sperduto Malatesta Antonietta? No, non la conosco. C'è qualcuno che dice è stato a casa sua, lei. Io sono stato a casa sua. Una persona, dice, ce l'ha detto qui. Stamattina. Io con questa persona non la conosco e non ne so niente. L'ha detto proprio stamani, signor Faradio. Ma a me l'ha detto. Comunque io con questa Sperduta Malatesta io non la conosco e mai vista. E nemmeno a casa sua, perché sono molto prudente e sto molto a casa mia. Ma lei sa dove sta per dire che non sta? No, non lo so. Lei è mai stato in via Chiantigiana 3 nel comune, ora glielo dico esattamente, dove stava questa signora San Casciano Tavernelle? Mai stato. Senta una cosa. Il Pacciani per caso le ha mai detto che andava e aveva una relazione con una signora con questo nome in questo luogo? No, perché io prima di tutto da quando io l'idea di la tuta e lo salvai non l'ho più visto e ho pensato di non avere più nulla a che fare. Io le vorrei reggere cosa dice questo signore che abbiamo sentito stamani, il quale dice. Talvolta ho visto nel locale la cantinetta di San Casciano, insieme a Pacciani Pietro, un uomo di cui ho visto alcune foto che mi avete mostrato oggi e che mi dite voi si chiama Faggi Giovanni. Questa persona io, questo signore ci dice, non la conosco. L'ho solo vista, dice questo signore, insieme al Pacciani a bere con lui. Credo di aver visto questo personaggio prima della morte del marito della malatessa. Niente, è tutto falso, mi cascasse gli occhi. No, 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 per carità. Io sono molto preciso. Come mai questo signore dice queste cose false? No, non lo so io. Lui non lo sa. Io non lo so. C'è un'altra persona che dice, riconosco fra uno dei saltuari accompagnatori del Pacciani, in una foto che mi mostrate, e è una persona di cui io non conosco il nome, comunque capisco da quello che mi dite voi, polizia che si chiama Faggi Giovanni. Questa persona che mi mostrate è un personaggio che l'ho incontrato qualche volta a San Casciano, Val di Pesa, mentre era in compagnia del Postino Vanni e del Pietro Pacciani, e forse di un'altra persona che non ricordo. Anche questo è falso. Assolutamente. Questa persona che dice così si chiama Cencingina, lei la conosce a motivi... Guardi, sono tutti nomi che lei mi dice che per me... niente. Allora può darsi che lei sia andato in questo posto che io le ho detto è via Chiantigiana, addirittura si dice in anni molto lontani, prima dell'ottanta con questi signori, e che lei forse non sapesse all'epoca che la signora da cui andava si chiamava ma la testa sperduto. Ma io cos'è sta signora ma la testa sperduta per me è una novità assoluta. Allora come mai... Io non so nulla. Come mai secondo lei questa vicina di casa dice di aver visto lei lì e a San Casciano? Vede sono già due le persone, eh? Non è una sola. Ma qua potrebbe essere anche tre ma io... Se si vuole vedere le fotografie... Certo, se no... Ma io non ci sono stato da San Casciano. Non ci facciamo dire... Non ci sono neppure clienti... sono stato delle fotografie, quindi non sappiamo come sono queste fotografie... Certo, però queste persone ce le hanno... Perché se no si altera tutto. No, 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 noi... Vediamo le fotografie, vediamo un po', vediamo le persone e le vediamo le persone. Prima facciamoci dire che non c'è mai... scusi, prima facciamoci dire che non c'è mai... scusi, prima facciamoci dire che non c'è mai stato. Io non ci sono mai stato. Vede se valuta se ha interesse di andare avanti, le pare? Se fosse a Tavarnelle c'avevo un cliente, Mugnai, sì, ma a San Casciano non ha avuto mai clienti e mi vendevano... Ah, chiedo scusa, era Tavarnelle-Valdipesa allora questa via Chiantigiana, ora lo controlliamo. Tavarnelle? Sì. Ma io andavo da Mugnai, fratelli Mugnai, poi non conosco... Non da questa signora. No, 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 assolutamente io non l'ho conosco questa signora, per l'amore di io. Non l'ho mai vista io. Io per il momento non ho altre domande, grazie. Signori avvocati di parte civile avete domande? Avvocato Bevacqua allora, prego. Senta, lei ha visto questo signor Bacciani, ha detto che era andato a pescare, giusto? Io. Sì. Lei? Sì. Sulla sieve? Sì. Solo? Solo era? Io ero con un amico che era al demoribondo all'ospedale, insieme a bambini sua. E poi si andò a pranzo a designare. Insieme ai bambini suoi? I bambini sono vivi? I bambini suoi dell'amico mio erano, si arrivavamo tutti insieme. Quindi eventualmente i bambini sono vivi, potrebbero ricordare questa... Sì, erano piccoli. Cosa vuole ricordino da quell'epoca parla? Cosa vuole ricordino? Ci eravamo in moto. Senta, vabbè, ed eravate a Scarperia. A Scarperia. Ecco, lei vide questa volta per la prima volta il signor Bacciani, lo vide questa volta il signor Bacciani, per la prima volta, e la seconda volta lo vide quando il signor Bacciani, quando lei è andata al signor Bacciani. Sì, quando mi fermai sulla strada lei lo vide. No? Gli scrissi la lettera, no? Per dirgli, il tuo amico lo vuole, questo materiale, probabilmente i vestimenti sì o no. E poi non ebbe nessuna risposta io. Sì. Poi dopo un po' di tempo ebbe l'occasione venendo da Siena, facendo giù il sud della Toscana, passando le chiesi a diverse case questa via dov'è, a questo punto l'ora generalmente poteva tornare per sentire un po'. E dopo un periodo di tempo, sulle 5, le 5 e mezzo da sera, era un sosse nella prima vera, non me lo ricordo, è passato quel tempo, ha capito? E poi basta. Io poi... E quindi lo vide soltanto questa seconda volta e basta? Questa seconda volta io gli diedi la Susa, che lo vidi in brutte condizioni, io poi lo salutai, capii, come ripeto, che non era il caso, perché vedi, no, la persona, cosa vuoi, io sono in commercio, sono a contatto, lì fu un caso particolare, lui mi chiese, c'è un amico, po' questa roba, io mi gestisci un po' nelle spalle, come si può fare, dico, ma se verrà, se gliela posso dare, sentiamo un po' quanta roba è o che non è, e così via, ecco, tutti i discorsi qui. Quindi due volte, una volta a Scarperia, poi io gli diedi la Susa, lo salutai e veni via, io poi da allora... Quindi lei non l'ha mai visto altro che in questi due posti, una volta a Scarperia la prima e l'ultima, che è la seconda, che le lo vide a casa sua e basta, in nessun altro posto l'ha mai visto? Io non ho avuto più occasioni, poi prima di tutto mi accorgi che non è il caso, anche per la persona stessa, cosa vuole, sono a contatto ingegneri, architetti, geometri, magazzini di Rozza Portata, un po' in tutta la Toscana, poi avevo fatto il periodo là anche alla Liguria, sì che si immagina un po', se potevo perdermi su quegli affari, sono una persona che non mi dava nessun affidamento. Grazie. Altre domande? Nessuna, Presidente. Bene, possiamo licenziare il test? Può andare. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno.